salve a tutti e benvenuti su i creativi channel in questo nuovo video oggi vi parlerò del profumo acqua di gioia di giorgio ormani che il mio profumo preferito e di due profumi che sono i suoi profumi equivalenti entrambi della marca false d'autore allora purtroppo non sono riuscita a trovare le note dei falsi d'autore però le note di acqua di gioia sono note di testa limone diamanti e menta note di cuore gesso minno pelperosa e peonia note di base o note di cuore labdano francese cedro di virginia e zucchero di canna comunque essendo dei profumi equivalenti credo che le note dei falsi d'autore siano le stesse di dell'acqua di gioia originale comunque il paragonetto ai due aromi lo faremo tra poco tornando all'acqua di gioia l'acqua di gioia è un profumo di fragranza del gruppo floreale acquatico da donna ed è stato lanciato sul mercato nel 2010 io mi ricordo ancora la pubblicità fatta da una modella mi sembra che si chiama emily di donato e mi ricordo che appena ho visto questa pubblicità mi sono innamorata di questo profumo e volevo provarlo a tutti i costi ok passiamo adesso al paragone dei due aromi l'aroma dell'acqua di gioia originale e l'aroma dei due falsi d'autore sono identici non c'è veramente nessuna differenza c'è una piccola pecca diciamo nei nei falsi d'autore la pecca sarebbe che se nell'acqua di gioia originale appena si spruzza si sente appunto la fragranza e non varia nell'acqua di gioia dei falsi d'autore si spruzza il profumo bisogna attendere più o meno mezzo minuto prima di sentire l'aroma dell'acqua di gioia subito l'odore è un po diverso è molto alcolico quindi bisogna aspettare che l'alcol evapori che il profumo a contatto con la pelle rilasci l'aroma l'aroma uguale all'acqua di gioia la durata di questi profumi cambia un pochino nel senso che l'originale dell'acqua di gioia che è uno de parfum questo che ho io dura sulla mia pelle più o meno sette ore sette otto ore invece questo qui che è la coppia equivalente è uno de toilette però e dura sei ore anche questo qui come vedete è un falso d'autore e anche questo spruzzato sulla pelle dura più o meno sei ore qua sulla scatola non c'è scritto però anche questo è uno de toilette allora sulla pelle i due equivalenti durano sei ore e l'originale otto sui capelli durano entrambi ventiquattro ore allora mi dico un po la storia di questi tre profumi questo qui l'acqua di gioia originale l'ho comprato più o meno due mesi fa sono riuscita finalmente ad acquistarlo ed ero l'ho acquistato su amazon era in offerta a 56 euro mi sembra e c'era nell'offerta la confezione appunto di giorgio armani che conteneva la boccetta di acqua di gioia eau de parfum 50 ml più una crema dell'acqua di gioia crema idratante mi sembra e un acqua un doccia un gel doccia dell'acqua di gioia la crema e il gel doccia erano da 75 ml gel doccia crema e profumo 56 euro cioè era un'offerta imperdibile quindi non ci ho pensato due volte l'ho acquistato subito invece i due profumi equivalenti uno l'ho acquistato a san marino una volta che ero andata in vacanza questo qui da 50 ml l'ho acquistato a san marino e invece l'altro da 100 ml l'ho acquistato su una fiera che fanno a cune è una fiera molto grande c'era una bancarella di profumi ho visto che era un falso d'autore mi ricordavo appunto di questo qui che l'avevo comprato ed era buonissimo e allora ho fatto che comprarne un altro da 100 ml invece che da 50 ml passiamo all'estetica delle boccette delle tre boccette allora adesso vi vado ad aprire le confezioni sono diverse anche le boccette dei due falsi d'autore credo che sia per la distanza di tempo che è trascorsa da quando ho comprato uno e da quando ho comprato l'altro perché questo ha già due anni questo ne ha solo uno infatti se vedete le boccette sono diverse la marca dovrebbe essere la stessa anche se in realtà cambia un pochino il logo se vedete questo ha due cerchi ed è più un ovale che un cerchio questo è più sul rotondo e c'è un cerchio solo non ne ha uno anche dentro come qua però ha tutte e due falsi d'autore quindi o c'era stata una modifica nel nome oppure potrebbe esserci una coppia della coppia comunque partiamo dall'estetica dell'acqua di gioia originale ho acceso un'altra luce giusto per farvi vedere ancora un pochino meglio le boccette prima non l'ho fatto perché appunto era una cosa più sul narrativo quindi non ce n'era bisogno però adesso per farvi vedere le boccette credo sia opportuno farvele vedere con una luce migliore allora l'acqua di gioia originale ha una boccetta sul quadrato con i bordi arrotondati se si guarda da sopra è più sottile qui nella parte alta e nella parte bassa ma al centro comincia cioè appunto si allarga e poi si stringe sul basso quindi stretto si allarga e poi si stringe sul basso infatti si allarga la parte più voluminosa è poi al centro dove c'è acqua di gioia Giorgio Armani da sotto vedete è più stretta dal lato si nota ancora di più il colore del liquido è esattamente come questo qua che vi ho messo di sfondo quindi è un azzurro è un verde acqua più che un azzurro infatti adesso ve lo faccio vedere con un pezzo di carta bianco è un colore molto chiaro devo dire però se vedete è un verde acqua più che un azzurro il colore azzurro più acceso c'è l'air di gioia mentre sun di gioia è sul colore ambrato e sky di gioia mi sembra che sia sul colore rosa comunque l'estetica di questa boccetta è l'estetica appunto vecchia adesso Armani ha deciso di fare una nuova boccetta ed è più rotonda più sul rotondo con un tappo che sembra una pietra colorata e ha deciso di adottare questa estetica di boccetta su tutte le linee di gioia quindi sky, acqua, aire e sun che sun mi sembra che adesso si chiami light l'estetica dei falsi di autore è molto diversa allora il primo, quello da 50 ml ha una forma più a cilindro il colore del liquido come vedete è trasparente ha questa etichetta acqua di gioia Giorgio Armani e des toilettes pour femmes falso d'autore 36 mesi dall'apertura quindi sono ancora in tempo dovrei usarlo perché in realtà l'ho usato pochissimo perché essendo che comunque non sono tanto vicina a San Marino stavo cercando di dosarmelo per non finirlo però adesso ho comprato l'originale e un altro da 100 ml quindi posso anche finirlo quest'altro che ho comprato in provincia di Cuneo invece ha un colore più giallastro come vedete la forma è rettangolare il tappo è nero vabbè non presenta disegni lo spruzzino è dorato invece nell'altro è argentato l'etichetta è trasparente acqua di gioia Giorgio Armani falso d'autore e 100 ml volume 85% 3,4 fl e qua invece non c'è scritto entro quando va consumato forse c'è scritto sulla scatola adesso guardiamo un attimo no, nemmeno sulla scatola c'è scritto mi ero dimenticata di farvi vedere che sul tappo dell'acqua di gioia ci sono le iniziali sulla boccetta originale e lo spruzzino è argentato invece su quest'altro di nuovo non c'è niente della nuova versione della boccetta dell'acqua di gioia quello originale non so dirvi molto quindi non mi sembra di aver visto la pubblicità in tv l'ho vista solo su internet non so se è un cambio che sarà permanente oppure se è una linea che poi tornerà a usare la vecchia boccetta non so dirvi molto su questo fatto del cambio dell'estetica della boccetta se voi avete delle informazioni in più scrivete pure sui commenti condividete così aggiornate me e aggiornate anche qualcun altro che guarderà questo video allora parlando un po' dei prezzi diciamo che mi è successa una cosa un po' strana nel senso io ho aperto il sito di Giorgio Armani per cercare i prezzi del profumo e quando schiacciavo su acquista mi portava sul sito di Douglas e sul sito di Douglas i profumi costano allora la boccetta da 30 ml dell'acqua di gioia e della boccetta nuova costa 53,95 euro quella da 50 ml è scontata del 15% e costa 61,20 euro invece che 72 quella da 100 ml sempre scontata del 15% costa 79,86 euro invece che 93,95 le boccette dei falsi d'autore allora quella che ho comprato a San Marino l'ho pagato a 5 euro poi c'era anche mi sembra l'offerta che se compravi tre profumi i due li pagavi 5 euro il terzo lo pagavi 3 euro comunque erano profumi già scontati è una marca italiana la vendevano a San Marino invece che 10 euro a 5 il 50 ml o almeno è quello che mi hanno detto loro poi magari anche qua in Italia costa 5 euro il 50 ml invece quello che ho comprato a Cuneo cioè in provincia di Cuneo l'ho pagato 10 euro il 100 ml quindi più o meno è lo stesso prezzo a ogni 10 ml un euro poi io voglio ribadire che sto cambio di boccetta devo dire mi ha un po' scombussolato io adoro questa boccetta qua dell'acqua di gioia e non amo tanto quella nuova poi al massimo se terranno quella che hanno messo in vendita adesso quindi la nuova versione della boccetta mi comprerò il profumo con quella boccetta lì e questa boccetta qua la terrò da parte e non la butterò perché veramente mi piace tantissimo fatemi sapere nei commenti se preferite la vecchia versione della boccetta o quella nuova io spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto e vi è stato utile mettetevi un bel bollice in su che mi fa sempre tanto tanto piacere e iscrivetevi al canale attivando la campanella se non volete perdervi i miei prossimi video come sempre vi lascio un grandissimo saluto e ci vediamo al mio prossimo video ciao